un grande ciao a tutti voi miei cari amici ascoltatori di italiano in podcast come sempre un caloroso abbraccio dall'italia a tutti voi che mi ascoltate e mi seguite ancora una volta benvenuti a questo nuovo episodio di italiano in podcast questa è la puntata numero 777 cioè 777 di mercoledì 2 ottobre 2024 in realtà è un po tardi perché siamo già oltre la mezzanotte un po oltre la mezzanotte anzi quasi un'ora oltre la mezzanotte quindi questo è un po un podcast da vampiro ma ci tenevo a registrare questo episodio oggi perché perché come molti di voi sanno già molto presto partirò più precisamente venerdì quindi dopo domani mattina partirò domani giovedì sarò molto impegnato con tante cose e la sera forse sarò molto stanco e con poco tempo quindi non sono sicuro di poter registrare un saluto prima della partenza e per questo volevo questa sera questa notte registrare questo nuovo episodio per essere sicuro di lasciarvi insomma con una nuova puntata prima di partire finalmente per la sicilia prima di andare in questo posto bellissimo prima a catania e poi a taormina e quindi eccomi qua dietro il mio microfono questo mercoledì a metà di questa settimana che ha portato un nuovo mese infatti lunedì è stato l'ultimo giorno di settembre settembre ci ha lasciati volevo provare a registrare un episodio lunedì ma poi ero molto stanco perché lunedì ho avuto ben sette lezioni e tante altre piccole grandi cose da fare durante tutta la giornata volevo salutare settembre ma poi ho cambiato idea perché prima di tutto ero un po anzi molto stanco e poi anche perché settembre mi ha un po deluso quest'anno settembre è stato un mese non esattamente perfetto ho fatto pochi tuffi solo nei primi giorni forse i primi dieci giorni credo non ricordo bene ma per il resto del mese non non ci sono stati tuffi non c'è stata l'estate quindi ero anche un po arrabbiato con settembre e per questo ho detto no ok ricominciamo da ottobre facciamo un nuovo episodio all'inizio di ottobre e quindi oggi sono tornato per raccontarvi un po' come sono andate queste giornate queste giornate di attesa per il mio viaggio per il viaggio che ho programmato da molto tempo insomma quindi sono in attesa in piacevole attesa ovviamente perché molto presto finalmente potrò godermi anche un po' di vacanza certamente farò un po' di lavoro per voi per il progetto per Speak Italiano spero di scrivere un buon articolo per il blog e anche di fare almeno un podcast mentre sono a Taormina sicuramente lo farò starò lì otto giorni quindi certamente vi racconterò come vanno le cose se il viaggio è divertente o no ma soprattutto io spero che ci sia bel tempo perché in questi giorni il tempo è migliorato ma forse ci sarà un nuovo peggioramento spero che non ci sia in Sicilia spero che questa bella isola mi regali ancora un po' d'estate prima di cominciare con l'autunno e ripartire con tutte le attività dell'autunno soprattutto il lavoro il lavoro c'è sempre estate, autunno, inverno, primavera però come dire con il cambio di stagione c'è anche un po' un cambio di mentalità cambiamo un po' le nostre abitudini cambiamo la nostra diciamo il nostro programma quotidiano è un po' diverso quindi prima di passare a un nuovo programma a una nuova mentalità voglio godermi o perlomeno vorrei godermi gli ultimi 10-12 giorni d'estate voglio godermi un po' di estate ancora prima di passare nella modalità autunno e quindi speriamo che il tempo migliori come sapete in alcune regioni d'Italia il tempo ha causato anche molti danni e continua ad essere un po' un problema anche in questi giorni soprattutto nel nord arriva il freddo qui invece è ancora caldo qui da me è caldo e anche più a sud e poi vi dirò anche qualcosa che è accaduto oggi perché oggi finalmente è successo qualcosa che non succedeva da un po' di tempo ma andiamo con ordine ci siamo lasciati venerdì il fine settimana è stato equilibrato con un buon equilibrio tra lavoro e riposo domenica purtroppo per un errore ho perso il MotoGP che io amo molto voi lo sapete mi piace molto guardare le gare di moto anche se io non ho una moto e penso che questi ragazzi siano dei pazzi ma adoro guardare le gare del MotoGP ho fatto un errore perché la gara era in Indonesia e io non mi sono ricordato di questo quindi la gara è iniziata presto più presto nella giornata alle 9 e io ero impegnato e non l'ho guardata in diretta l'ho guardata in diretta vuol dire mentre succedeva mentre c'era la gara l'ho guardata più tardi ma sapevo già il risultato purtroppo il nostro Bagnaia è arrivato terzo il nostro campione del mondo e rimane secondo in classifica nel mondiale primo Orge Martin ma ha fatto davvero una bella gara quindi complimenti a lui ma io faccio il tifo per Bagnaia e spero che vinca anche il suo terzo mondiale con la sua bella Ducati rossa ma come dicevo sabato e domenica abbastanza rilassanti soprattutto la domenica ho avuto molto occasione di riposare nella sera nel pomeriggio e sera diciamo e invece dal lunedì dal lunedì sono cominciate tantissime lezioni ieri e lunedì infatti sono stato molto impegnato come vi ho detto lunedì è stata la giornata più intensa con sette incontri ma anche martedì, ieri è stato abbastanza faticoso però ho trovato il tempo di allenarmi infatti domenica e lunedì ho corso mi sto allenando in modo molto intenso con la corsa sento di nuovo una buona forma la corsa è ritornata quasi a un livello normale devo fare un po' di corse più lunghe oggi per esempio ho corso dieci chilometri ma mi manca la continuità su questo tipo di distanza quindi devo ricominciare a correre più spesso una distanza come dieci chilometri prima di ripartire con un allenamento per una mezza maratona o una maratona quindi sono in una fase insomma di come posso dire di riscaldamento nel senso che devo cercare di raggiungere una forma base di buon livello prima di ripartire con allenamenti per corse ancora più lunghe ma ci siamo quasi ho corso dieci chilometri oggi ho corso sette chilometri domenica sei lunedì ieri ho fatto una pausa ma ogni giorno corro anzi ogni giorno faccio una media di circa ventimila passi che è un buon esercizio per le gambe tra la corsa e le camminate e le passeggiate supero quasi sempre i ventimila passi che è una bella distanza ogni giorno ecco e adesso sento questa forma tornare tornare ai livelli di prima e questo ovviamente mi fa molto molto piacere ma oggi è successo qualcosa che non succedeva da un po' oltre ad aver corso stamattina dieci chilometri aver camminato molto all'ora di pranzo finalmente dopo moltissimi giorni di pausa ho fatto un nuovo tuffo finalmente dopo venti giorni più o meno ho ricominciato a fare i tuffi proprio perché voglio ricominciare per la mia vacanza quindi voglio abituarmi di nuovo a stare nell'acqua e oggi non ho resistito il tempo era abbastanza bello la temperatura era abbastanza calda e ho detto no oggi devo andare devo tuffarmi non c'era nessuno solo pescatori ma nessuno mi ha nessuno ha pensato che fossi pazzo però mi hanno guardato un po' in modo strano perché ero l'unico almeno sulla scogliera sulla mia scogliera a fare un tuffo in realtà lungo la spiaggia della mia città c'erano altre persone perché la giornata era calda soprattutto all'ora di pranzo e quindi era perfetta per un tuffo l'ho fatto anche perché domani ci aspettiamo pioggia infatti anche oggi pomeriggio è cominciato a piovere leggermente domani ci aspettiamo un brutto tempo un po' più intenso ma venerdì dovrebbe già essere meglio e io spero davvero che quando arriverò in Sicilia troverò un bel sole e questo spero che questo duri per tutti i giorni del mio soggiorno sull'isola quindi come ho già detto spero davvero di fare un'ultima parte d'estate in Sicilia prima di tornare qui a casa e cominciare con la vita autunnale non credo che quest'anno riuscirò a fare dei tuffi anche a novembre come l'anno scorso o alla fine di ottobre quest'anno forse non è l'anno giusto ma io ci spero sempre spero che arrivi anche quest'anno una bella ottombrata vi ho spiegato l'ultima volta mi pare l'ultimo podcast cosa significa la parola ottombrata e questo ritorno d'estate in ottobre un periodo più caldo del normale che ultimamente capita spesso ma non so se sia buona come cosa però è piacevole fare qualche tuffo anche ad ottobre e a proposito dell'ultimo episodio ho fatto un po' di casino scusate perché adesso ci sono due episodi uguali nell'ultima puntata e nella penultima ho fatto casino quando ho fatto l'upload dell'ultimo episodio e domani correggerò quest'errore quando pubblicherò questo podcast di oggi vi chiedo scusa ma sono molto curioso di sapere se vi è piaciuto se vi è piaciuta questa idea della delle notizie vere e false notizie strane vere e false ho visto che già un buon numero di persone ha risposto a questo sondaggio e il prossimo episodio nel prossimo episodio vi darò vi dirò qual era la notizia falsa e quali erano le due notizie vere invece bene questo è un po' tutto quello che è successo in questi giorni sono stato come ho detto impegnato sono sempre anche un po' in ansia i giorni prima della partenza perché perché come dire ho sempre non paura ma insomma questa quest'ansia che ci sia qualche problema qualche imprevisto all'ultimo momento che mi impedisca di partire o che insomma causi qualche problema al programma di viaggio e a volte succedono queste cose anche se non sono così come dire difficili però ci possono essere imprevisti come quello di oggi alla stazione di Roma Termini e passiamo alle notizie con questo oggi alla stazione di Roma Termini c'è stato il caos caos dei treni praticamente tutto il traffico dei treni a Roma era bloccato alla stazione di Roma Termini e anche a quella di Tiburtina Roma-Tiburtina tutto era andato in tilt come si dice per qualche errore di un'azienda privata non ho capito bene ancora c'è stata questa questo gran casino i treni non potevano partire ritardi incredibili anche più di due ore treni cancellati turisti arrabbiatissimi ma non solo i turisti anche ovviamente i pendolari tutte quelle persone che vanno al lavoro ogni giorno con il treno insomma un vero disastro per fortuna tutto è tornato alla normalità adesso quindi la circolazione dei treni è di nuovo regolare ma è stato davvero un giorno terribile per i treni italiani se la stazione di Roma Termini si blocca l'Italia è praticamente ferma i treni italiani sono fermi qualcuno all'inizio ha parlato di attacco hacker ma sembra che non sia stato così sembra un problema tecnico un errore appunto di una di una azienda che lavora insieme a Trenitalia e quindi hanno lavorato tutto il giorno per ripristinare prima possibile la circolazione dei treni adesso è di nuovo tutto normale però che brutta giornata per i treni italiani invece è una bella giornata per i nonni italiani infatti il 2 ottobre i nonni di tutto il mondo in realtà il 2 ottobre è il giorno dedicato ai nonni quindi oggi facciamo gli auguri a tutti i nonni è un lavoro importante fare il nonno e la nonna sono lavori importanti ed è giusto festeggiare questi pilastri della famiglia i nonni in Italia e immagino un po' ovunque sono uno dei pilastri fondamentali della famiglia perché aiutano aiutano molto sono presenti nella vita dei loro nipotini soprattutto qui in Italia è bello vedere questi nonni a spasso con il carrozzino il passeggino e i loro nipotini per me questo è molto comune ogni giorno sul lungomare ne vedo tanti e sono sempre felici giocano con i loro nipotini insomma sembrano un po' bambini anche loro ma quindi tanti auguri ai nonni italiani e ai nonni di tutto il mondo tanti auguri a tutti quanti loro una notizia così così invece riguarda lo sport è finito oggi l'open in Cina e Cina è stato battuto da Alcaraz all'ultimo set è stata una partita molto intensa molto bella l'ho seguita non l'ho vista l'ho seguita nei risultati perché ero impegnato ma ho visto che è stata davvero intensa perché i due giocatori hanno dato il massimo diciamo che è stata fino alla fine molto molto combattuta ma purtroppo per il nostro Sinner non c'è solo questa sconfitta in finale all'open di Cina l'organizzazione internazionale antidoping ha deciso di continuare con questa insomma ha deciso di fare ricorso contro la decisione di assolvere Yannick Sinner dai problemi di doping le organizzazioni del tennis hanno detto che secondo loro Sinner è innocente non deve essere punito per questo incidente con delle sostanze vietate per le organizzazioni internazionali del tennis insomma Sinner non ha colpe è successo c'è stato un incidente qualcosa di non non voluto insomma non c'è stato un caso di doping ma l'organizzazione internazionale antidoping invece ha deciso di punire Sinner quindi ha fatto ricorso ha chiesto una punizione tra uno e due anni di squalifica quindi uno o due anni senza giocare per il nostro campione per il numero uno del mondo tutto il mondo del tennis italiano è dalla sua parte personalmente anch'io Sinner mi sembra un bravo bravissimo ragazzo un grande campione io credo alla sua avversione ma certamente capisco che le organizzazioni che si occupano di doping hanno le loro motivazioni insomma vogliono essere sicuri o vogliono essere giusti con le loro decisioni quindi posso capire questa richiesta ma speriamo che alla fine questo nuovo tribunale dia ragione a Yannick perché io sono convinto che lui sia innocente davvero o comunque non abbia questa colpa ma non solo io tanti grandi campioni sono dalla sua parte insomma sembra a me Sinner dà fiducia mi fido di lui e quindi spero che tutta questa brutta storia finisca presto con una completa assoluzione ma oggi c'è un'altra notizia importante un po' internazionale ma in realtà questa è molto italiana perché si festeggiano oggi cento anni della nascita della radio in Italia radio è un mezzo di comunicazione ancora molto importante in Italia e in tutto il mondo noi italiani siamo coinvolti nell'invenzione della radio beh Guglielmo Marconi è uno dei padri di questa invenzione qualcuno dice l'unico padre qualcuno dice uno dei padri ma in ogni caso il suo nome è molto importante se parliamo di radio e in Italia quindi festeggiamo questi cento anni della nascita della radio italiana c'è stata una celebrazione nel senato insieme a grandi personaggi soprattutto insieme a Renzo Arbor che è uno dei diciamo dei più esperti di radio in Italia lui ha condotto delle trasmissioni radiofoniche radiofoniche molto importanti storiche e quindi è la persona giusta per festeggiare questo importante traguardo della radio italiana quindi tanti auguri anche alla radio italiana oltre che ai nonni e questa era un po' l'ultima notizia questa è l'ultima notizia senza un po' anche oggi voglio restare nei 25 minuti se ci riesco mi sembra un buon tempo per farvi esercitare con l'ascolto e la comprensione e quindi non mi resta che invece leggervi anche la frase celebre di oggi ho deciso di dedicare la frase celebre di oggi a nessuno ho trovato una bella frase di Seneca famoso filosofo famoso filosofo latino quindi italiano e la frase che ho scelto per voi oggi è un po' particolare mi ha ispirato la condivido ed è questa Seneca ha detto che lieve è il dolore che permette di prendere una decisione credo che Seneca volesse dire con questa frase che quando si prende una decisione è anche molto difficile che fa un po' soffrire non è troppo pesante non è troppo dolorosa perché alla fine in qualche modo sblocca la situazione ci permette di decidere ci permette di andare avanti e continuare con la nostra vita anche se insomma forse non è facile ma almeno la decisione ci ha sbloccati ci ha permesso di riprendere per una strada diversa e quindi anche se un po' dolorosa è un dolore che si può sopportare e non è troppo pesante e con questa frase filosofica di Seneca voglio salutarvi vi do l'appuntamento al prossimo episodio probabilmente anzi certamente da Taormina il vostro sindaco quindi partirà molto presto ci risentiamo in un'altra terra sempre in Italia ma in un altro luogo come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino ad oggi e per continuare a farlo vi ringrazio per i messaggi che mi mandate come sempre anche con gli auguri per il mio viaggio sono sicuro che sarà un viaggio bellissimo sono sicuro che sarà un'esperienza indimenticabile anche questa volta non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura per il momento però l'appuntamento è al prossimo episodio dalla Sicilia il vostro amico Paolo vi saluta e ciao a tutti